Rispetto per City, una squadra magnifica, ma non abbiamo paura abbiamo le qualità per affrontarli. La passione per il club mi travolge, adoro Milano e sperimento partite come un fan tradizione innovazione, serenità passione, sostenibilità ambizione, razionalità a sogni punto a Steven Young coesistono gli estremi, nella costante ricerca del miglior equilibrio possibile, se non perfetto punto alla vigilia dell'impegno più importante prestigioso della sua carriera come presidente dell'Inter, come unianus a due facce, Young guarda indietro per elaborare saldi guardare ottimisticamente al futuro a partire dalla partita di domani contro City, ma non solo.